Torna come ogni anno anche ad Arezzo il Mese della Vista, la campagna ideata da Federottici in collaborazione con l'albo degli ottici optometristi per promuovere la salute degli occhi. Il mese di ottobre sarà il mese in cui tutti gli ottici della provincia di Arezzo in tutte le vallate potranno eseguire controlli visivi gratuiti a tutta la cittadinanza che ne farà richiesta. Quindi presso ogni centro ottico potrete entrare e effettuare un controllo visivo della vista che dovrà prevenire perché c'è sempre più bisogno di fare prevenzione prima di fare una vista successiva dall'oculista. Tutti gli ottici aderenti al momento e nei prossimi giorni contiamo di averne altri si potrà consultare sul sito www.confcommercio.ar.it slash mese della vista. Nella provincia di Arezzo sono circa 60 gli ottici che hanno aderito all'iniziativa. Offrono gratuitamente la misurazione della vista per tutto il mese in considerazione che le statistiche nazionali ci dicono che è un tipo di misurazione e di pratica che non è molto consueta. Quindi per cercare di diffondere l'abitudine del controllare la buona visione perché è importante vederci bene. Quest'anno la campagna sarà incentrata in particolar modo sulle nuove tecnologie e sulle ripercussioni che l'uso smodato di esse ha sulla salute visiva.